Qualche giorno fa avete visto sul canale tutti quanti i mates che approdavano nell'universo di Minecraft Dungeon per sconfiggere temibili nemici e conquistare il mondo di Minecraft. Sono contento che vi sia piaciuto questo nuovo gioco che è uscito veramente negli ultimi giorni e ho deciso di iniziarci una serie, così posso essere anche maggiormente esplicativo avendolo già giocato tutto quanto. Adesso vi mostrerò anche il mio personaggio a livello 91. Sono già abbastanza esperto e confident con ciò che accadrà e sono sicuro al 100% che piacerà anche a voi. Quindi mi raccomando, se volete altri episodi, dipende se lo scusate da voi, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Io vi auguro una buona visione. Bene ragazzi, voi è Stepney e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Benvenuti in questa prima avventura di Minecraft Dungeon in solo. Sul mio secondo canale trovate il sottoscritto che affronta il boss finale a difficoltà più alta possibile, ovvero Apocalisse. Mi sono infognato particolarmente, è vero, perché questo gioco ti coinvolge tantissimo. Iniziamo intanto entrando nella mia sessione privata con il personaggio a livello molto alto. Vi faccio vedere anche l'accampamento, non che ancora ci sia tantissimo, però ci sono già delle cosine da far vedere. Qua c'è un fabbro da cui puoi comprare armi o armatura, tutto casuale. Qui c'è il mercante errante invece che ti dà i manufatti. I manufatti sono quelli che utilizziamo qua in basso, alla sinistra del cuore, che indica quanta vita abbiamo, e si possono scambiare con quelli nell'inventario, a meno che tu non li abbia appena utilizzati. Ad esempio, se io utilizzo il gong che riduce la difesa dei miei avversari intorno a me, non posso sostituirlo fino a che il suo countdown di, non so quanti secondi, ma c'è scritto in teoria, 20 secondi di tempo di recupero, non torna in cima. Sono come degli oggetti, solo che li puoi utilizzare più volte e hanno vari effetti, che poi andremo a vedere in futuro. Allora, in questo momento io non vi dico di fare un dungeon con questo personaggio, perché siamo molto, molto forti. Tra l'altro sul secondo canale caricherò in questi giorni anche una run nell'ultimo livello, con difficoltà a Apocalisse, il pinnacolo d'Ossidiana, dove uccido il boss in pochissimo tempo. Poi vi consiglio di andare a vederlo. Il personaggio ha un'armatura, il personaggio ha un'arma, in questo caso sono delle fasce dal lottatore. C'è un arco, quindi ogni personaggio avrà questa struttura armatura, arma, arco. E col destro si sparano le frecce, col sinistro ci si muove e si cliccano i nemici. Col tasto E, in questo caso, abbiamo la pozione della cura e tutto ciò che dovevate sapere, essenzialmente, già lo sapete. Questa è la nostra base, il nostro accampamento, qui non verremo mai attaccati da nessuno. Quaggiù in fondo ho scoperto esserci un portale del Nether, attualmente non attivo, ma presto probabilmente lo sarà. Direi di iniziare quindi da capo, andiamo al menu principale, creiamo un personaggio nuovo e iniziamo insieme una nuova avventura. Crea nuovo. Vediamo un po', l'ultima volta, chi è che avevo utilizzato, se non sbaglio, questo qui. Adesso voglio cambiare... questo qui mi piace molto. C'è già l'animo dal lottatore, mi piace. Prenderemo lui. Partita online, giocheremo da soli e via. In viaggio verso Costa Calamaro. Praticamente c'è un cattivo che sta sottomettendo tutti i villageri a giro per il mondo. Hanno bisogno di noi, gli abitanti dei villaggi, siamo gli unici che possono ristabilire l'equilibrio nel mondo di Minecraft. Eccoci qua, nuovo obiettivo, vai al villaggio. Allora, si parte con un arco, una spada, poche frecce, anzi zero frecce, meraviglioso. Con il tab, nel mio caso, si attiva la mappa, vedete, si mette in sovraimpressione, così potete capire dove dovete andare. Com'è che ho l'impressione che sull'isoletta qua dietro possa esserci qualcosa di buono? Sto pagando il gioco! Eccola là! E si parte con una cassa. Questo gioco nasconde tanti segreti. All'inizio, diciamo, non farete chissà quale danno, ma i mostri di conseguenza non avranno chissà quale vita. La tua spada è utile nei combattimenti ravvicinate? Usala per sconfiggere gli zombie. Easy! Io che sono un esploratore nato voglio vedere ogni pertugio per trovare eventuali casse nascoste. E fidatevi che ci sono... Nelle casse si può trovare del loot davvero interessante. Nel caso in cui non fosse interessante, lo potete riciclare. Vi darà delle gemme che poi potrete spendere per comprare altre armi, armature o manufatti. È davvero molto semplice, davvero molto figo. Vi garantisco che vi divertirete. Gli scheletri mi stanno un po' colpendo, ma sinceramente me ne frega il giusto. Abbiamo tanta vita a disposizione, figuriamoci se un colpo ci fa paura. Adesso dobbiamo mettere in sicurezza il cancello interno. Queste sono le missioni di base, ovviamente molto semplici, esplicative per farvi capire un attimo il funzionamento base del gioco. Farò questo video un pochino più lungo in modo tale da addentrarci un pochino all'interno già di questa avventura di Minecraft Dungeon. Adesso c'è un'imboscata, lui è il cattivone per la cronaca. Lui è quello che mette scompiglio a giro per il mondo e noi dobbiamo farlo fuori. Però fino al livello finale ovviamente questo non sarà possibile. Siamo saliti di livello. Ogni qualvolta si sale di livello abbiamo dei punti incantesimo da poter utilizzare. Adesso vi faccio vedere subito come funziona. Fatemi sconfiggere un attimo questo avversario. Abbiamo la possibilità sia di mettere il manufatto già tra gli utilizzabili, sia di incantare uno dei nostri oggetti. In questo caso gli incantesimi disponibili li vediamo in basso a destra e abbiamo per l'arco, impatto infinito, disincanto o per la spada, tonante, aspetto di fuoco o gelo. Io direi che potrebbe essere molto forte all'inizio magari la possibilità di incendiare le creature che colpiamo. Abbiamo anche un razzo da poter sparare. Razzo che fa la bellezza di 40 danni a distanza. Esplosivo, quindi AOE ci darebbe tutti quelli intorno. Home! Appunto, ovviamente se cadete nel vuoto, raga, morite, ma non perdete il vostro totem. In teoria ci sono tre vite per ciascun livello che affrontate, quindi avrete più tentativi nel caso in cui doveste morire. Questo assomiglia molto al mio villaggio. Sapete che non ci avevo fatto caso la prima volta che ho completato questa missione? Sono proprio scemo. Sei arrivato troppo tardi per salvare gli abitanti del villaggio, ma non temere, sono ancora lì fuori che attendono un eroe. E adesso è diventato il nostro accampamento, quindi la nostra base dove possiamo fare acquisti, comprare cose. Danni subiti 29, cassa aperte 100%, non ne abbiamo persa neanche ora. Danni infiniti, cure fornite, non ci interessa. Ogni dungeon che affronterete vi regalerà una cassa contenente un manufatto che può essere più utile o meno utile. Canna da pesca, in questo caso non è buonissima. Queste sono tutte le missioni che dobbiamo completare all'inizio. Ora sono bloccate perché dobbiamo farle ovviamente step by step. Inizieremo dalla foresta dei creeper. Lo facciamo a livello più difficile, così livelliamo più in fretta. Come vedete già partiamo con un bel po' di zombie, che fanno anche abbastanza male. Vi garantisco che dopo aver giocato Minecraft normale, l'idea di trovare tantissimi mostri da poter far fuori è bellissima. Devo stare molto attento perché ho poca vita in questo momento e vorrei evitare di fare un fail. È giusto così step. Libera l'abitante. Probabilmente il fabbro, vero? Non mi ricordo, però sì, dovrebbe essere il fabbro. Vedete step, com'è che non ti ricordi? È uscito due giorni fa il gioco. Eh, lo so. I mostri quando li uccidi possono dropparti anche dei consumabili, come delle mele o le frecce. Non voglio inviare un messaggio a nessuno, no no amici. Ok? Lasciatemi da solo. È la fine del livello, quindi sicuramente magari ce la portiamo a casa. Oh! Ma chi è? Ma che caro? Raga, è arrivato qualcuno, ma non so chi sia. Masar 1, Q1, 7, 1, 1, 6, 5, 2. What? Ma stanno entrando i miei amici in partita, ma non era previsto tutto ciò. Ok, raga, scusatemi. In questo gioco gli amici hanno la possibilità di aggregarsi alle vostre partite e viceversa per darvi una mano o per andare in soccorso a loro. Qua c'è un ingresso per una cripta nascosta e loro vogliono andarci a tutti i costi. Che dite? Vabbè, ormai ci andiamo. Queste esperienze secondarie non sono missioni principali, però vi danno un sacco di loot interessante. E mo ci curiamo, tiriamo la TNT. La TNT, quando la raccogliete, va sopra la vostra testa e la lanciate in direzione della prossima freccia che state sparando. Quindi sempre col tasto destro. Queste sono delle giare con delle gemme. Sono molto utili, raga. Più ne raccogliete, più soldini avete da parte per shoppare e per trovare magari delle armi più buone. Ci hanno lasciato da soli, però. Meraviglioso. Fantastico. Come in realtà sarebbe dovuta andare questa missione, quindi non posso lamentarmi. Ho rischiato di morire, ma tutto calcolato. Buono, non c'è niente. Quando giocate con gli amici, se premete F1, potete teletrasportarvi da loro. Ma non è necessario, siamo molto vicini. Ma a sbaglio siamo sempre di più, cioè anche da te, ma che cazzo... Va buono, va buono. Mazziamo tutto, anche le pecore che magari ci danno qualcosa di buono. Vai, vai a diritto. Dovevamo andare di là in realtà. Stiamo giungendo alla fase finale. Qua dobbiamo ovviamente trovare la carovana per liberare l'abitante del villaggio. Vorrei tirare diritto, ma ho paurissima con tutti... Di questi mostri! Un creeper è sempre un creeper, eh? Fermi, c'è anche una casetta con delle scorte. Prendiamo delle frecce, un bel po' di gemme. Meraviglioso. I ragni non sono tanto fastidiosi, a meno che non capiti questo, esatto. Che vi sparano sotto ai piedi a ragnatela e vi blocchino magari in presenza di un creeper. E a giro per le missioni tra l'altro ci sarà questo porcellino che contiene sempre una cassa di quelle fighe da aprire. Dov'è questa carovana? Me l'aspettavo molto più vicino. Libera gli abitanti! Sì! Stiamo arrivando! Nessuno può intrappolare gli abitanti del nostro accampamento! Fatevi valere, ragazzi! Fatevi valere! Mucca mi dispiace tanto. Tutti fatti fuori, poverini! Teoricamente c'è l'ultimo da liberare e lo hanno fatto loro. Adesso dobbiamo trovare l'uscita che è da questo lato di qua. Ehi, qua c'è una cassa. Contro gli altri combattono io faccio scorta. Livello 7! Meraviglioso! No! Volevo cambiare una cosa nella registrazione e ho chiuso il gioco. Sono un pirla. Nonostante capitino queste cose, però come vedete abbiamo ancora il nostro livello. Quindi adesso torneremo all'accampamento pari pari. Allora, questa spada, come vedete, è di livello 8 e fa dai 15 ai 25 danni corpo a corpo. Questa è di livello 4. Ha più incantesimi dell'altra, vedete? Qua ce ne sono due sezioni disponibili perché per ogni sezione ovviamente potrete sceglierne solamente uno. Questa ha solo una parte di incantesimi. Quindi potenzialmente potrebbe essere più forte quella che ha un po' meno attacco ma ha la possibilità di incantarla di più. Questo arco fa 10-25, questo 13-31, questo 13-32. Io direi di optare per un 13-32. Direi che possiamo switchare l'arco, dargli anche infinito, ovvero la possibilità di ottenere un'altra freccia dopo averne scoccata una. Non è proprio come infinito in Minecraft. Utilizziamo la spada di livello 8 e quando andrete a vendere, riciclando ovviamente il vostro oggetto, vi restituirà anche gli incantesimi. Così potrete provare tantissime build diverse. Ho indebolimento, aspetto di fuoco, ce l'avevamo sull'altra, sicuramente affilatezza, in questo modo farà più danno. E poi anche ecco, la possibilità di riscagliare un altro colpo in rapida successione. Adesso possiamo fare la foresta dei creeper per conto nostro. Va bene uno, va bene uno così vi faccio vedere la missione. Vedete quanto è già più forte questa spada ragazzi rispetto a quella che avevamo prima? Guardate gli zombie, vengono polverizzati, noi lanciamo la TNT. A terra vedete il range, attenti perché si espande un pochino, quindi potreste caderci anche dentro. E aver già fatto gli upgrade ci permette di uccidere in un batter d'occhio anche quelli un po' più potenziati. Quindi mi raccomando, quando non avete la possibilità, usate sempre i vostri incantesimi. Tanto nel momento in cui venderete l'oggetto ve li restituiranno indietro. Una cosa che spero inseriranno, ovvero all'interno dell'accampamento, più villageri che ti garantiscano di mantenere l'oggetto togliendo solo gli incantesimi. Sarebbe molto figo perché comunque alcuni oggetti sono davvero rari da trovare, alcuni addirittura unici o leggendari. In futuro mi auguro che faranno in modo che tu non debba necessariamente vendere l'arma o l'armatura per poter riutilizzare gli incantesimi. Abbiamo trovato un'armatura, ci dà 9 salute, aura di potenziamento dei danni dell'arma e le pozioni salute curano anche gli alleati, intanto ci stanno attaccando gli zombie. Tra gli incantesimi disponibili abbiamo o bruciante, ovvero che fa danno ai nemici del corpo a corpo, forse non interessante perché farebbe un solo danno. Pozione barriera però non è male, quando usi una pozione di cura subisci il 90% dei danni in meno per 5 secondi. Buono, interessante. Vi ricordo che con la spaziatrice avrete la possibilità di fare la rotolata. Guardate, se lui mi spara io rotolo, vi avvicino e non mi prende e lo faccio fuori. Tra l'altro gli scenari sono davvero molto suggestivi, cioè passate in delocation davvero fighe. Ciao ragnetto. No, non sparare la ragnatela, non lo fare. Te ne penti, io te lo dico, te ne penti. L'hai sparata, va bene. Morti tutti. Poi ci saranno dei livelli in cui dovrete affrontare anche un boss alla fine del dungeon. E lì sì che vi voglio, lì sì che sarà complicato. Ehi là. Cos'è questo? Oh. Ho premuto qualcosa? Oh. Ovviamente ci sono ancora tante cose da scoprire per il sottoscritto. Quello probabilmente avrà attivato un passaggio segreto da qualche parte, non lo so. Probabilmente dovrei tornare indietro per scoprirlo. Prima di tutto, raga, ricordatevi di eliminare il maghetto che potenzia i nemici. E ci siamo. Abbiamo liberato l'ultimo amichetto. Adesso dobbiamo trovare l'uscita dal dungeon. Dammi la cesta. Me la merito, una cesta. Ti prego. Eccola qua giù. Ve l'ho detto che c'era. Wow. Abbiamo trovato una spada rara. Buono, buono. Mi raccomando, se è possibile, non saltate i nemici. Cercate sempre di ingaggiarli e di portarvi a casa l'uccisione. Mi sa tanto che siamo alla fine, ragazzi. Uccidiamo quello laggiù in fondo. Manca l'ultimo ponte da sorpassare. Uh, delle gemme. Sempre prima i nemici più temibili che possono infastidirmi nel combattimento. E dopo quelli un pochino più scrausi. Here we go. Missione compiuta. Abbiamo ucciso il 90% delle creature e abbiamo aperto il 60% delle casse. Se ci siamo fatti sfuggire qualcosa, non va bene, non va bene. Adesso, ragazzi, abbiamo il fabbro. E nella vostra base ci saranno anche delle casse del genere con degli smeraldi all'interno. Un piccolo regalo. Qua tra l'altro c'è casa nostra. Ci sono dei porcellini. C'è il piano superiore che è la stanza che vedete alla fine di ogni missione dove aprite le casse. Andremo un attimo dal nostro caro fabbro. Costa 80. Abbiamo trovato un arco con un potenziamento? O sbaglio? No, dov'è che è? Eccolo qua. Colpisce numerosi bersagli. Con la stessa freccia questo arco prende più creature. Che non è male, ma è più debole del nostro. La besta è buona perché ha 27 danni a distanza. Quasi quanto il nostro arco, ma 31 cambia veramente poco. Un incantesimo che mi sento di consigliarvi per le armi a distanza è Rabbia Selvaggia. Che vi dà la possibilità di trasformare un nemico in un vostro alleato. Rabbia Selvaggia potenziata subito. E niente. E questo era l'inizio della nostra avventura in Minecraft Dungeon in solo. Come vedete di missioni da fare ce ne sono tante. Adesso abbiamo sbloccato queste qui iniziali. Poi arriveremo fino al castello del male. E qui c'è scritto presto in arrivo Reami Isola. E sono veramente curioso di vedere che cosa accadrà. Per oggi è tutto. Spero con tutto il cuore che possa piacervi questo gioco. Perché come vi ho detto mi ci sono affogato particolarmente. Mi raccomando. Spolleggiate i commenti e scrivete la campanellina. Probabilmente alcuni saranno timorosi sul fatto che non sia Minecraft che conoscono. Ma un Minecraft diverso. Ma fidatevi. Il cambiamento dopo un po' è necessario e ben apprezzato. Vi saluto e vi ringrazio. Noi ci vediamo nei prossimi giorni al prossimo video. Qua sempre tutto. Bye! Ah! Veloce! Dobbiamo subito giocare ancora. Mi sa che registro immediatamente raga. Ciao!